Bentornati, bentornati ragazzi in questo nuovissimo video dell'Eccelso. Allora, oggi è l'ennesimo video purtroppo di critica nei confronti di una situazione che ha dell'imbarazzante, nel senso che comunque ci troviamo oggi, mi sembra il 24 di giugno, poi magari registro questo video e arrivo all'ufficialità, ma il Cagliari ad oggi si trova senza allenatore, senza l'ufficialità, penso sia una delle ultime squadre dove ancora non c'è stata effettivamente l'ufficialità dell'allenatore, erano state date delle date di conclusione di questa operazione e passata un'altra settimana dalla conferenza di Bonato e non si ha ancora nessun tipo di notizia, nessun tipo di novità, nessun tipo di ufficialità. Insomma, questo è testimonianza del fatto che questa squadra, questa società, mi sembra di capire che stia veramente un po' in difficoltà a livello economico su certe cose, nel senso che io non ho ancora capito bene, si parla di problemi con l'Empoli, di un milione, di cibo, non lo so di quanto si parli, ma ripeto, questo casino, questa roba che rallenta moltissimo la programmazione, perché per quanto tu puoi programmare con Nicola, ma è chiaro che se non hai la firma, è chiaro che se dalla presidenza, da chi deve mettere i soldi, non arriva una chiusura su Nicola, ma cosa vuoi programmare? Ma cosa vuoi programmare? Quindi è chiaro che ti trovi super in ritardo dal punto di vista della programmazione, ed è chiaro, se non ricordo male, che gli altri anni si iniziava il ritiro a Cagliari per il richiamo fisico, per una ripresa degli allenamenti, per poi andare in Valle d'Aosta o dov'è, si iniziava intorno al 6-7 luglio, cioè, qua siamo in ritardissimo sul piano di marcia di un'estate che sarà difficilissima, perché come avevo anticipato, il Como fa sul serio, il Parma fa sul serio, si è già visto anche da queste prime battute di mercato, il Como ha preso un'attaccante, che però ne è promossa, per me Belotti, a 4 milioni e un colpaccio, perché è comunque uno che si sbatte, uno che comunque, secondo me, nel giusto ambiente può fare ancora bene, e si sta prendendo il miglior centrale di una diretta concorrente, se il Como può essere considerato una concorrente per la promozione, cioè per la salvezza, ok? Dario promossa. Quindi la situazione non va per niente bene, io sono qui per comunicare con voi e mi sentirei in colpa a non dirvelo, cioè per me la situazione non va per niente bene, io ci terrei, vorrei veramente fare un video di programmazione, di simpatica gestione di questo mercato, di appoggio, di gasamento, l'abbiamo fatto nel passato, ma quella situazione non lo permette in questo momento, assolutamente, assolutamente, ma non lo permette assolutamente no. Guardate, ci sono un insieme di elementi che mi fanno abbastanza rabbrevidire per questa stagione, spero di sbagliarmi, valuteremo poi bene la rosa che avremo a disposizione a fine agosto, questo assolutamente sì, ma gli inizi non mi piacciono assolutamente, perché qua siamo ufficialmente nella nuova stagione, ok? Quindi l'inizio non mi piace per niente, perché al 24 di giugno hai venduto il giocatore che più si era messo in mostra, non hai l'allenatore e non hai l'allenatore, perché dici sì ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ma io non vedo nessuna ufficialità, quindi non si è ancora iniziato a programmare, hai perso il tuo giocatore più carismatico gratis, e non hai riscattato il tuo giocatore più promettente che era un ristagno per 4 milioni, cioè una roba folle, folle, folle di una società che in questo momento mi sembra veramente in grande difficoltà economica e di idee, anche corrette perché ripeto a livello anche economico non riscattare un ristagno è stata una minchiata, perché se l'Inter avesse esercitato il controriscatto, un milione, un milione e mezzo quant'era, te lo portavi a casa, ok, non l'avessi esercitato, ma oristagno, il brorio di oristagno, ma in prospettiva, ma enormemente più grande di 4 milioni, ma già attualmente vale quei soldi, voglio dire, quindi cioè veramente anche lì c'è stata una gestione terribile e pessima e ce lo siamo fatti soffiare, quindi discorso allenatore, io poi ripeto il casino che non capisco è questo ambaradan per Davide Nicola, cioè con tutto il bene, con tutto il rispetto, ragazzi ci andiamo un attimo ad analizzare Nicola, cioè Nicola che se dovesse arrivare sarebbe il primo protetto perché viene in una situazione debilitante per qualsiasi essere, ma Nicola è un allenatore che le ultime due salvezze con la Salernitana si salva perché il Cagliari non riesce a fare un gol contro il Venezia, contro l'Udinese è già salvo, la Salernitana perde 4-0 a Salerno e si salva con 32 punti, quanti erano? Con l'Empoli segna l'ultimo minuto perché Nyang non è stato espulso prima con un'entrataccia tremenda da Rosso Diretto ed era già monito, non ha preso il secondo giallo, vincendo di culo all'ultimo, cioè voglio dire, ora far passare Nicola come il visionario, il mago delle promozioni, concordo sulle promozioni, il mago delle salvezze, io sinceramente non ci sto, poi che ci sia di peggio, ma questo può sicuramente essere, detto questo io non vedo questo allenatore particolarmente visionario, particolarmente innovatore, maestro di calcio, io sinceramente questo non lo vedo, poi se volete farlo passare come tale e volete accoglierlo come tale, ben venga, io per me non è così e non sarà così, poi una volta che quando arriverà, speriamo che arrivi l'ufficialità, vedremo, però quello che dico, c'è tutto sto casino, sti milioni all'Empoli che si vogliono o non si vogliono dare, casini e robe, cioè tutto sto casino ragazzi, per Davide e Nicola, per Davide e Nicola, cioè cerchiamo anche un attimo di capire cosa stiamo dicendo, cioè per Davide e Nicola, sto casino che abbiamo 3-4 settimane di trattative, per Davide e Nicola, figa, sembra stia arrivando Guardiola o Klopp, cioè non lo so veramente, allora andiamo su qualche altro profilo, cioè ce ne sono tanti, e ci stiamo facendo tra l'altro soffiare, dei profili di allenatorage molto importanti, che vengono da anche categorie inferiori, che si stanno lanciando, che non abbiamo colto, che non abbiamo colto inerzie che servivano a questa squadra, perché guardate, spero di sbagliarmi, ma Nicola, poi faremo un video quando e se dovesse firmare, ma Nicola, non mi sembra il profilo adatto, onestamente, per questa situazione, non mi sembra il profilo adatto, ma spero di sbagliarmi, veramente. Arriviamo alla cessione di Dossena, la cessione di Dossena, parto da un presupposto, io non sono contrario alle cessioni per grandi offerte, però contestualizziamo quella che è la grande offerta, cioè ragazzi, Dossena è vero, viene pescato per 200.000 euro, lo rivendi a 8 milioni più 2 di bonus, che sono da vedere come, comunque c'è un 10% da dare all'Avellino, che vi ricordo, perché poi mi fate i calcoli con la calcolatrice, però poi vi dimenticate le cose in nostro sfavore, e allora c'è anche un 10% da dare all'Avellino su questa roba, comunque questo è il meno. Quello che vi voglio dire è che un giocatore, in rampa di lancio, ha 23-24 anni quanti ne ha Dossena, che quest'anno ha fatto una stagione da esordiente, titolare, quindi con veramente un futuro davanti più che roseo, più che roseo, che arriva in Serie A a fare l'aspettato protagonista, ed è uno dei due, tre giocatori valorizzati quest'anno dal Cagliari, ambientato in Serie A italiano nel gruppo, e il messaggio che dà la società è prendiamo e lo vendiamo, ma ragioniamo sulla cifra, cioè se voi mi dite che buongiorno, che è un giocatore che non gioca le coppe, che arriva a decimo, undicesimo, dodicesimo da anni, vale 40-45 milioni, come sembra che avverranno queste trattative, e Dossena ne vale 8 più 2 di bonus, allora c'è qualcosa che non quadra, e capiamoci anche sulle grandi cifre, ed è qua che viene il provincialismo, ed è qua che viene la mediocrità di Cagliari, dei tifosi e della stampa, della stampa vergognosa, perché? Perché Dossena, allora non siamo neanche bravi a valutare i nostri giocatori più forti, per me una cifra, per me non ci si doveva sedere al tavolo per meno di 10 milioni fissi, per meno di 10 fissi io non mi sarei neanche suduto al tavolo, per una vendita intorno ai 15 milioni, poteva essere una vendita già più interessante, poteva essere una vendita già più interessante, però ragazzi ci sono nella programmazione calcistica, degli aspetti che i giornalisti da salotto non considerano, cioè il fatto che questa squadra va di ritiro come attaccanti, Lapadula e Pavoletti, che quindi il reparto d'attacco sia completamente da rifare, che se ne sia andato via Nandes, che io non amavo, ma è comunque un giocatore centro del Cagliari, è stato un giocatore centro, e lì comunque devi capire come rimodellare questo centrocampo, il fatto che arrivi un nuovo allenatore, e tu a questo allenatore vai a togliere la certezza della difesa, per una cifra, sì, chiaramente non è bassissima, ma stiamo parlando di uno dei nostri migliori giocatori quest'anno, ok? Cioè, meno male, meno male, il problema è che voi continuate a fare i calcoli con le calcolatrici, assieme a questi giornalisti, non si riesce sempre a prendere un Dossena a 200 mila euro, e quel Dossena che arriva a 200 mila euro, non avrà mai sei mesi di prova in serie B per ambientarsi, viene buttato in serie A, dove le alternative sono Azzidiacos e Vietesca, che si sono costati in due, quanto che è costato Dossena? E permettetemi che Dossena ne vale 100, sia di Azzidiacos e 300 di Vietesca, che sono stati comprati per 4,5 e per 3 milioni, ok? Quindi, quando si fanno i calcoli, ah ma se prendiamo adesso, vendiamo questo a 10, ne prendiamo un altro 200 mila euro, più svalenza, ma non funziona così, ma non funziona così, quel tipo di scouting, questo qua, è una cosa che si fa, quando hai una squadra di serie A, si fa a livello anche proprio di giovanili, ma in prima squadra, ma non puoi ogni anno pretendere di inserire giocatori dal nulla, da zero, senza avere una base solida da cui ripartire, cioè questa è una squadra, adesso l'ultima che ho letto prima, ma per fortuna non è una pagina molto affidabile, è che anche Scuffet forse potrebbe, con un'offerta importante, partire, cioè, Dio grazie, allora vabbè, facciamo che, per rinotarci l'ultimo posto, mettiamo un 100, un 100 sull'ultimo posto del Cagliari, non so quanto sia quotato, e ce lo prendiamo, cioè, la programmazione, non è che si arriva offerte alte per qualsiasi giocatore, allora cosa cambiamo? 15 giocatori, su 15, e poi ripeto, questo atteggiamento è completamente discorde, rispetto a, a quella che sono state le parole, qua torniamo al discorso di Buonato, cioè qua dice mani libere, dice capacità economiche, ma me cojoni capacità economiche, cioè, spiegatemi adesso la difesa del Cagliari, da chi dovrebbe ripartire, da Mina che sino ad agosto ha una clausola, ha una clausola di 2 milioni, speriamo che nessuno se ne accorga, anche io dirlo in conferenza forse, speriamo che nessuno se ne accorga, dobbiamo ripartire da chi? Da Zidiaco-Sivietesca? Ripartiremo da Zidiaco-Sivietesca, ma non è una presa in giro, sarà quel che sarà, sperando che questi ragazzi si siano ambientati, sperando che siano in un'estate diventati maldì e nesta, ma sono due giocatori tecnicamente e tatticamente molto scarsi, l'abbiamo visto quest'anno, speriamo appunto che risolvendo problemi linguistici, che sono molto importanti, migliorino, ma ragazzi con quei soldi, giocatori così ben inseriti, e con quella presenza fisica di Dussena, ma è difficile trovarli, ed è molto soprattutto, al di là del fatto che tu li possa trovare, è difficile inserirli, perché Vietesca e Zidiaco, nelle loro squadre, uno era capitano e giocava in Conference League, e l'altro era comunque un giocatore importante in Francia, vedete quanto uno più uno nel calcio non faccia sempre due, a livello tattico e tecnico nelle cose, ok? Non fa sempre due, fa una volta, fa zero altre volte, fa dieci altre volte ancora, dipende dalla crescita del giocatore, da come un giocatore si trova, vedete l'arrivo di Gaetano al Cagliari, dopo anni di panchinamento al Napoli, vedete un oristagno che arriva dall'Olanda, e fa una stagione comunque importante, ok? Ok? Sono veramente un po' debilitato, un po' debilitato da questa attuale situazione, la difesa quindi a questo punto è da ricostituire, perché Mina anche qua, io dopo i sei mesi che ha fatto due milioni per Mina, lì metterei, forse un'altra squadra, quindi anche qui prepariamoci possibilmente a perdere anche Mina, cioè ragazzi, il Cagliari si trova con tre reparti su tre, se escludiamo la porta e lo teniamo come reparto a parte, da rifare, da rifare, da rivedere, perché comunque lo stesso centrocampo è un bordello, cioè c'è un casino della Madonna dappertutto, le fasce sono un bordello, perché Di Pardo, Zappa, Augello Azzi, cioè ragazzi, ti salvi un anno con questi esterni, ti salvi un anno, ti salvi un anno e mezzo, due no, due no, la difesa è da rifare, il centrocampo appunto è completamente da rivedere, perché se se ne va il tuo centrocampista più importante, se Viola non lo riconfermi, va rivisto, e l'attacco è da rifare da zero, cioè la situazione non è veramente felice, io lo dico, la situazione non è felice, poi i boccaloni, i boccaloni, i boccaloni, siete un po' dei boccaloni, i boccaloni e la stampa possono fare quello che gli pare, io tra l'altro anche la stampa, facendo dei dissing abbastanza subdulli, comunque io vado avanti per la mia strada, e dicendovi la mia su queste faccende, ok? Un bacione, ciao a tutti!